Sindaco di Riace, Mimmo Lucano, oggi qui in prefettura perché? Guardi, io ero venuto in prefettura per delle situazioni di difficoltà che stiamo attraversando per i progetti di accoglienza, per discutere con il capo di gabinetto, con altri funzionari delle prefetture e per cercare di venire fuori da questa situazione difficile. Poi all'uscita ho incontrato delle persone, dei rifugiati che erano in accoglienza a Riace e tramite un accordo con la cooperativa che gestisce i loro servizi e la prefettura del Reggio Calabria avevamo deciso di fare un trasferimento di questi ragazzi in altri progetti. e loro in pratica inizialmente sono stati disponibili per accettare il trasferimento, poi sono ritornati che protestano e vogliono tornare a Riace. Quindi oggi lei si trova qui per caso? Per caso perché ero venuto per discutere di altre cose e all'uscita mi hanno riconosciuto e per l'ennesima volta mi trovo così, per una combinazione. Però mi dispiace pensare che sono tre giorni che praticamente non hanno dove dormire. Adesso vediamo come... Non hanno accettato il trasferimento in altri progetti. Perché siete avanti alla prefettura stamattina? Perché piace sempre il progetto, questo è bene, no? Al campo, come tutti i Riace, piace sempre qua, tutti lo so, questo è bene. Ti piace più Riace che Crotone? No, no, Crotone, come progetto, piace, se tutti lo so come Riace, tutti il sistema è bene, come così. Com'è il sindaco di Riace? Se lo so il sindaco, che ha tre anni qua, te lo so, bene. Sinaco bravo, sinaco bravo. Mimo Lucano è bravo? Sinaco sì, bravo. Sinaco troppo bravo, noi non vogliono andare a Riace, Noi vogliono abitare a Riace, perché il sindaco è bravo con noi, noi bravo con lui. Crotone, noi non piace fare Crotone.